Ehi ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video io sono sempre il vostro carissimo Anderuzzo di quartiere oggi siamo di nuovo su poche mmo ragazzi Un paio di settimane che non facevo video ne volevo portare uno negli ultimi giorni perché qualche settimana fa la scorsa settimana c'è stata la finale dell'europea wonder 19 giocata dall'italia Io che sono uno dei pochi stronzi a cagarsi l'italia anche al di fuori di fase finale dei mondiali e degli europei della squadra a Mi sono messo a vedere la partita mentre giocavo a poche mmo e stavo registrando una bella reaction solo che un po dovevo stare dietro la partita Un altro po dovevo stare dietro al game e quindi giustamente non mi ero accorto che la mia webcam si era accidentalmente staccata E quindi OBS ha registrato per tipo 90 quasi 90 minuti io che gioco a poche mmo mentre sclero perché non siamo riusciti ad andare neanche oltre il 1-0 Abbiamo fatto una bella partita però non siamo riusciti a fare più dell'1-0 E praticamente si vede oltre il gameplay soltanto la mia faccia completamente ferma ferma quindi alla fine ho dovuto lasciar perdere ma non fa niente Ottimo l'ha visto Comunque non è questo l'argomento di questo video Oggi ragazzi io volevo fare questo video per parlarvi un po' Abbraccio non mi sono preparato un copione a parte che non lo faccio mai ma oggi ancora meno ce l'avevo voglia Di quello che io ho visto ultimamente su poche mmo sia per quanto concerne il team di sviluppo sia per quanto concerne la community Allora partiamo da Un principio così vi faccio capire che cosa intendo Come potete vedere ragazzi noi in questo momento ci troviamo a Porto Selcevoli A Owen Qualche giorno fa Uno youtuber Cioè più che uno youtuber è un content creator perché non so se con quel Sì dai possiamo definire uno youtuber Un ragazzo Diciamo non so se lui apprezzi molto questa terminologia Però un content creator americano che porta poche mmo Che si chiama Paco Lasch Che è probabilmente uno dei più seguiti se non il più seguito sulla community sicuro internazionale Ha praticamente fatto un Stava facendo una live su twitch Questo credo fosse la scorsa settimana Durante la quale è stato allertato Dal fatto che i suoi Cioè più che i suoi giocatori Che i giocatori in generale di poche mmo Alcuni giocatori si erano dati appuntamento Qui a Porto Selcevoli per fare un sit-in di protesta Contro il team di sviluppo Perché? Perché siamo al 22 luglio Oggi e gioto ancora non è arrivata in game Nonostante sia passato un mese Dalla fase di public test server Che c'è stata a giugno Prima del solstizio D'estate Io ragazzi quando ho visto il video Non ci potevo credere Cioè praticamente c'era una schiera di gente Che arrivava da qua dal molo Fino al tendone lotta Fino giù al centro poche Non saranno state almeno 100 o 200 persone Una roba allucinante Cioè pensate a quello che succedeva nel 2016 Quando spawnava che ne so Chari, sardo, blastori su pokemon go Ecco una cosa del genere Solo replicata nel mondo di gioco di poche mmo Una cosa fuori di testa proprio Cioè c'erano veramente un casino di persone E allora ragazzi perché ho deciso di fare questo video Perché voglio spiegarvi un po' le cose Mettendomi nei panni Sia della community che ancora non ha avuto gioto Nonostante fosse abbastanza stato Non dico sbandierato Ma fatto passare il messaggio che noi avremmo avuto In tempi non sospetti gioto in game Ma mettendomi anche nei panni del team di sviluppo Non voglio dare completamente torto O completamente ragione a nessuno dei due Ragazzi vi dirò semplicemente le cose per come le vedo Allora ragazzi partiamo dal punto di vista Del fan di poche mmo Pocche mmo ragazzi È stato Come dire Su poche mmo La regione di gioto è stata annunciata per la prima volta Ad ottobre Pochi giorni prima appunto che io cominciassi la mia avventura sul game E In realtà il team di sviluppo non ha mai fatto promesse che non ha mantenuto Perché Q Che sarebbe uno dei principali developer Del gioco Aveva detto che Gioto avrebbe visto la luce su poche mmo Entro questa primavera Ed effettivamente Da un lato è successa questa cosa ragazzi Perché la fase di public test server è stata Prima del 20-21 giugno Giorno in cui In cui succedeva Il solstizio d'estate Quindi tecnicamente gioto È stata resa esplorabile in primavera Anche se non era la gioto che avremmo voluto noi In primis io Al tempo stesso però È ovvio che Forse io non dico che il team di sviluppo abbia In qualche modo illuso Non è che hanno detto cose del tipo Noi sicuramente Noi vi promettiamo che per quel giorno Avrete gioto in game stabilmente Però è stata un po' Secondo me fatta passare Questa cosa Perché se io Personalmente parlo per me ragazzi Se io avessi dovuto dire Entro la primavera Riusciremo quasi sicuro Ad inaugurare il gioto Ma non so se sarà la versione definitiva Io personalmente avrei più Quando c'era stato l'annuncio di gioto Ad ottobre io avrei detto Giotto Vedrà l'avvento Tramite Server testing Sui server appunto del gioco Entro la primavera Secondo me Questa è una cosa Che gli sviluppatori hanno sbagliato alla grande Perché effettivamente ragazzi Cioè se io leggo Coming Spring 2023 Io capisco Coming Spring 2023 Capite quello che sto dicendo ragazzi Cioè Se io non sto dicendo Che loro Abbiano Detto cose Non vere Però È stato un modo Di introdurre gioto Non chiaro come Probabilmente la fanbase Si aspettava Quindi io Capisco Il disappunto Il disappunto E la delusione Specialmente della gente Che gioca di default A Pokemon Che magari non è una Di quelle persone Che dice Aspetto che arriva gioto Così O torno Su Pokemon Oppure Mi ci metto Come Può essere stato Cioè no Io in realtà Non è che ho aspettato Io dal 28 Da quando è stato annunciato Che c'è il gioco Perché volevo Più che altro La conferma Non volevo che Fosse necessariamente presente Però ecco Diciamo In particolare Le persone Che giocano di default A Pokemon Io capisco Il loro disappunto Per questa cosa Ragazzi Perché comunque Almeno nei confronti Della tua fanbase Fidata Nella tua fanbase Presente In ogni periodo Dell'anno O quasi Potevi Avere delle strategie Comunicative Molto migliori Al tempo stesso Però dall'altra parte Ragazzi Mettendomi Nei panni Di quello Che è il team Di sviluppo Io vedo Spesso e volentieri Che la gente Forse In generale La fanbase Compresi noi Anche che giochiamo Il gioco Non si renda Effettivamente conto Della fortuna Gigantesca Che abbiamo noi Nel 2023 Ad avere un gioco Come Pokemon E adesso vi spiego Anche perché Pokemon Ragazzi Voi dovete Considerare Che esce In un Contesto Come quello In cui si trova Quindi Non solo È un Fan game Tratto Dalla serie Pokemon Ma è Un fan game Tratto Da una serie Non di proprietà Ma legata Alle console Nintendo Ora Ci arrivo A quello Che voglio dire Voi ragazzi Pensate Prima di tutto Quello Che Pokemon È Storicamente Quindi Praticamente Quasi tutti I giochi A parte Bianco e Nero 2 Che ancora Non sono stati Annunciati Della serie E quello Che invece È Pokemon Oggi Su Switch Magari Giochi Che vendono Anche Di più E io Ho seriamente Paura Ragazzi Perché Spade Scudo Si sono Trasformati Nel giro Di poco Nei secondi Titoli Più venduti Della serie Mainline Di Pokemon E nel giro Di poco Tempo Dal loro Rilascio Scarlatto E Violetto Hanno Quasi Raggiunto Oro e Argento Io Sudo Freddo Veramente A quello Che potrebbe Uscire fuori Dai prossimi Dati Di vendita Rilasciati Da Nintendo Sudo Veramente Freddo Ragazzi Non sto Scherzando Cioè L'idea De uno Scarlatto Che mi Vende Più De Oro e Argento Mi Fa Vabbè Lasciamo Perdere Questa Cosa Adesso Quindi Noi Da un Lato Abbiamo Una serie Pokemon Che magari Da alcuni Anni Vende Perché Vende Sia a livello Di merchandise Sia a livello Di videogiochi Ma È in Caduta Liberata Dopo la Quinta Generazione A livello Di qualità Generale Dei titoli Io Ragazzi Di recente Ho Dopo Averlo Provato In passato Ho provato A vedere I gameplay Di Pokemon X e Y Di Dread Qua su Youtube E hanno certo Detto No Basta Io non ce la faccio Perché No perché Fosse Necessariamente Un gioco brutto Ma non è Quello che Mi sono Aspettato Da Pokemon Cioè Non è Un gioco Di Pokemon Che mi Ha Come dire Spronato Particolarmente Neanche a vedere I gameplay Quindi Prendetevi conto Quindi Noi In questo Contesto Abbiamo Un gioco Come Pokemon M.O. Invece Magari Ok Ha Una grafica Un po' Retro Perché Chiaramente Se è basato Sui giochi Fino alla Quinta Generazione C'è Sta che C'abbia Sta grafica Un po' Spoglia Però Allo stesso Tempo Cioè Più che Spoglia Un po' Pixelosa Non Sono Giochi Spogli Quelli Usciti Prima Del nintendo 3ds Che cosa sto dicendo Intendevo Pixelosa Al tempo stesso Però Noi Non dobbiamo Dimenticare Anche l'altra faccia Della medaglia Ragazzi Perché non solo Pokemon M.O. Oggi Esiste in un contesto Come quello In cui versano I veri Tante virgolette Giochi Di pokemon Ma anche In un contesto Come quello In cui nintendo Fa vivere I suoi prodotti Ragazzi Io vi voglio Raccontare una cosa Che forse molti di voi Non sanno Alcuni anni fa C'era un ragazzo Uno youtuber Un content creator Appassionato di musica Che per divertimento Per passatempo Aveva messo Su youtube Tutta una serie Di video Di cover Fatte da lui Delle colonne sonore Dei giochi di metroid Per Per le console nintendo Metroid Come molti di voi Sapranno E' una serie Una IP Una Intellectual property Di nintendo E lui Visto che era Appassionato di quella serie Aveva messo Tutte Tutte no Diverse cover Di quella serie Non so se di un singolo Videogioco O di più videogiochi Diversi Che gli erano piaciuti E le aveva messe Tutte su youtube Nintendo Queste qui Erano cover Ragazzi Non erano canzoni Rippate dai file Originali E E poi Fondamentalmente Caricate su youtube Per monetizzarci Erano canzoni Completamente Rifatte Da lui Nintendo Ha ottenuto Che questi video Venissero buttati giù Perché Cover Di sue proprietà intellettuali Cosa di cui In realtà Non aveva diritto Ma nintendo E nintendo E voi non siete un cazzo Così ragionano nintendo Uno potrebbe pensare A questo punto Questo per quanto riguarda Delle cover Poi non credo Che ci sia Bisogno Che io vi Sottolinei Che razza di politiche Per quanto mi riguarda Fasciste Nintendo assume Con i Fan game Tratti dalle sue Proprietà intellettuali E più fa così Più la fanbase Gli va indietro Perché Non tutti Ma diversi fan di nintendo Sono Più bonisti Di lei E ce ne vuole Non più bonisti Più fascisti Di lei Fascisti Diciamolo Chiamiamo le cose Per come sono Che cazzo Uno a questo punto Potrebbe pensare Vabbè ma Pokemon E' un Provedente E' un Proprietà intellettuale Cioè non è che nintendo Può fa sempre come Si Nintendo può fare Il cazzo che gli pare In questi contesti Nel 99,9% Ora vi spiego Ora vi spiego cosa Intendo Io ragazzi mi ricordo Che quando Stava per essere rilasciato Sul mercato Pokemon Sole e Luna Adesso non so Quanti di voi Si ricorderanno Questa cosa Nintendo Cioè Un team Di sviluppo Di appassionati Di giochi Pokemon Aveva rilasciato Online Cioè Stava Per rilasciare Online Una Chrome Tratta Da Pokemon Cristallo Cioè un intero Gioco fan made Creato A partire Da Pokemon Cristallo Che sarebbe Poi stato Caricato Sul sito Del creatore Il gioco In questione Era Pokemon Prism E appunto Sarebbe stato Rilasciato A ridosso Dell'arrivo Sul mercato Di Pokemon Sole e Luna Nintendo Poco Un giorno Prima Anzi Che questo gioco Venisse pubblicato Sulla rete Ha mandato Una lettera Di season Desist Allo sviluppatore Del gioco Cool Boy Man Poi il resto È storia Perché Tutti Quelli che Sanno di questa Storia Hanno almeno Saputo Come è andata A finire La ROM Di Pokemon Prism È stata diffusa Illegalmente Online Perché Non so A chi L'aveva passata Magari era stato Anche lo stesso Cool Boy Man Sotto Pseudone Non lo so Come Però Comunque La ROM Di Pokemon Prism È stata diffusa Online E tutti Ci hanno potuto Giocare E provarla In questo Secondo caso Ragazzi È già diverso Perché Pokemon Prism Teoricamente È un H-ROM Quindi è un Gioco Creato Sulla base Di un altro Gioco In questo Caso Pokemon Cristal E quindi È già Più Legittimo In questo Caso Che Questo Prodotto Venga buttato Giù Ma anche Qua C'è qualcosa Che non va Perché il Gioco in questione È stato buttato Giù da Nintendo Non da Pokemon Company Non da Game Freak Anzi Masuda In quel Contesto Ha detto Anche Che Lui Era In realtà Molto a favore Dei progetti Creati da fan Non ricordo esattamente Che parole Usò Però lui Comunque diede a intendere Che era una persona Molto pro Ai giochi Pokemon Creati dalla fanbase Specialmente nel momento In cui nessuno ci lucra Sopra Eppure Nintendo Ha potuto fare Il cavolo Che gli pareva Non è stato A The Pokemon Company Se fosse A The Pokemon Company Si è pensato Più così Ma ha potuto Prendere Provenienti Direttamente Nintendo E anche Nell'ultimo Nintendo Direct In cui è stato Presentato Il remake Di Super Mario RPG Di cui trovate La mia reaction Su questo canale È stato presentato Anche il DLC Di Pokemon Spade 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 Scusa Pokemon Sole Luna Pokemon Scarlatti Mi fanno talmente schifo Che ne manco il nome Mi ricordo Mamma mia Che tristezza Perfino I trailer Dei nuovi DLC Di Pokemon Scarlatti Violetto Sono stati presentati Tramite un Nintendo Direct Anziché Il solito Pokemon Presence O Pokemon Direct Che eravamo Abituati a vedere Da diversi anni Questo la dice lunga Su quanto Anche Non essendo Pokemon Una Proprietà Intellettuale Di Nintendo Comunque Nintendo In quel campo Quando si parla Dei videogiochi Poi non posso fare Il cazzo che gli pare E noi Nonostante questo Abbiamo Pokemon MMO Che questo cazzo Di agosto Fa 11 Anni Online Signori 11 Anni Online Pokemon Forse ragazzi Voi Date per scontata Questa cosa Perché Non è stato Magari L'unico Fan game Pokemon Che avete giocato Ma ragazzi Credetemi Che quello Che sta facendo Pokemon È un'impresa Titanica Rispetto a Quello Che Sono stati Altri Prodotti Fan made Della serie Pokemon Come dire Creati in passato Dai fan Perché Magari In molti casi Si tratta O di Acrom Di cui Nintendo Non si Accordi Di cui Né Nintendo Né The Pokemon Company Si sono Accorte O magari Ancora Peggio Accrom Che sono state Buttate giù Ma che poi Hanno continuato A circolare Nei meandri Oscuri Dell'internet Magari Venivano tramandate Da persona a persona Tramite whatsapp O telegram O quel che vi pare E poi venivano Applotate da altre persone Esterne al progetto Su altri siti Di file sharing Come può essere Mediafire Piuttosto che Mega Piuttosto che altri Invece Boca MMO Ha lo stesso Identico Sito del forum Lo stesso Identico Gioco Anche se si è Evoluto nel tempo Perché Pokemon Non è sempre Stato così Come adesso Come lo vediamo Adesso Per 11 anni E forse Forse io Ragazzi voglio mettere Il beneficio Di dubbio Su questa cosa Perché non ho visto Prove Di questa cosa E forse Sono riusciti Perfino A sconfiggere Gli avvocati Di Nintendo Perché io ho sentito Più e più volte In giro Nintendo Che prova a far Causa Pokemon Che riesce A sopravvivere Ad un loro Season Desiste Io non so se questa cosa Ragazzi sia vera O sia una voce Messa in giro Che ne so Da Da persone che giocano Dal 2012 Che volevano dare Una sorta Che ne so Di alone Di invincibilità A poche MMO Però I fatti Parano Ragazzi E noi Nel 2023 Abbiamo Un gioco Che dopo 11 anni Ancora È attivo Alla facciaccia Degli avvocati Nintendo E conta Anche un casino Di giocatori Questo ragazzi Per dirvi cosa Quando voi Decidete Di smettere A poche Io non sto dicendo Che voi dovete Giocare A poche MMO Fino a quando Non Campate Perché Ragazzi Il genere A cui appartiene A poche MMO Sia Gli MMORPG È un genere Che dopo un po' Ci può stare Che stanchi Ragazzi Perché Una volta finita Magari La campagna Principale Perché di solito Un MMORPG Tipo Si svolge così Ci sta La campagna Quella principale La modalità storia Che si può fare Sia da soli Che con altra gente E poi Anche Il postgame Molti dicono Che il vero Gioco Di un MMORPG Inizia Nel postgame Questa frase L'ho sentita In un video Di Kalel Qualche tempo fa Eppure Cioè Io Quindi Non dico Eppure L'ho detto Così Non c'entra un cazzo Io quindi Capisco Che Poche MMO Possa Dopo un po' Stufare Perché magari Tu finisci Di fare Che ne so Su canto Finisci la trama Anche dopo Il settipelago Su Pokemon Smeralda Arrivi fino al Parcolotta Su Pokemon Platino Che ne so Arrivi fino al Monte Ostino Nell'area Sbago Quello che è Insomma Fai tutte le cose Che ci sono da fare Al livello di quest Secondari nel gioco Su Bianco e nero Idem Arrivi fino Dopo la lega Alla città nera O alla foresta bianca Si sta Che dopo un po' Uno si stufi Ma non Basate il vostro Volere Pokemon Su Giotto O meglio Basate il vostro Volere Stare su Pokemon In base a Quanto Vi ci trovate Io se domani Sento un giocatore Che Dopo magari Anche più ore Di quelle che io Perché io ragazzi Non ne ho Tanti se ne ho Poco più di 200 290 Mi sembra Una cosa del genere 253 Vabbè Quello che ha Io se dopo Che ne so Un giocatore Che ha giocato 100 Facciamo 200 ore Anche Non troppe Meno di quelle che ho io A Pokemon Dice Mi sono stufato Non ho più stimoli Per giocare Nessuno La ti dice niente Ragazzi Non dovete Giocare un gioco Nel momento in cui Questo gioco Non vi appaga più E ci può stare Al tempo stesso Ragazzi Io tutte le volte Ma questo da quando Ho cominciato a frequentare Il server Di Pokemon MMO Nello scorso ottobre Io quando sento Gente dire Dai mettete Giotto così Torno a giocare O peggio ancora Magari gente che sa Già che Adesso torno a giocare Per Giotto Dopo Giotto Smetto di giocare Fino a quando Non introdurrete Kalos A me ragazzi Ve lo dico Senza perdita la lingua Questo modo di pensare Mi fa schifo Al cazzo Sono volgare Nel dire una cosa del genere Probabilmente si La gente che ragiona così Se lo merita Probabilmente si Probabilmente si Tutto Tutto Cioè Ragazzi penso Per esempio Vorrei vi faccio vedere Una cosa Qualche giorno fa C'era stato Qui vicino Levati Fucsiavoli Sotto Fucsiavoli La zona Di mare Che c'è La potevo fa volo Per tornarsi In Tocano Invece di dove Mi rifa tutto a piedi C'è a piedi in bici Ma vabbè Avete capito Qualche giorno fa Qua sotto Ragazzi Era stato Organizzato Un evento Di pesca Da parte dello staff Di Pokémon Mio L'evento Consisteva fondamentalmente Nel andare Nel percorso Prendere Un Magikarp E i Tre Magikarp Più forti Che venivano pescati Se non sbaglio Più l'ultimo Quello Più scarso Vinceva Vincevano Un premio Io ragazzi Non sono uno Che partecipa Agli eventi Su Pokémon Perché sono Un po' Forse sfaticato E un po' Anche a sociale Quindi non sono uno Che c'è tanta sbatta Di fare certe cose Però Al tempo stesso Ragazzi Questi Che sembrano Eventi Creati Soltanto Come Attività Secondarie Al game Sono tutte cose Che aiutano A migliorare La longevità Del game Di Pokémon Anche qualora Uno non avesse Più da fare Altro Quindi nel momento In cui tu hai Anche fatto Tutta la trama Anche post lega Di tutti I giochi di Pokémon Hai comunque qualcosa Con cui trattenerti E questa è una cosa Che il team di sviluppo Fa Da Anni Anni Per questo ragazzi Io Veramente Non sto dicendo Ripeto Che voi dobbiate Giocare a Pokémon Anche quando Vi rendete conto Che non vi va più Ma voi Nel momento In cui dite Tornerò a giocare Su Pokémon Solo quando Metterete Jodo O peggio ancora Tornerò a giocare Su Pokémon Solo quando Metterete Jodo E dopo che Avrò finito Jodo Tornerò a giocare Solamente Dopo che Metterete Un'altra Regione A voi Non piace Effettivamente Pokémon A voi Piace Poter Fare X Regione In un contesto Per cui Questo non è Qualcosa Che si può Criticare Di base Perché ragazzi Diciamoci la verità Anche io Uno dei motivi Principali Per cui ho Voluto In primis Scaricare Pokémon Oltre all'annuncio Non al lancio All'annuncio Di Jodo È stato perché A me piaceva Adesso Fino a qualche anno fa Io snobbavo Pokémon Perché ero Un italiano Medio Peggio Di questi Oh Al percorso Deci Stammi Fammi vedere Un po' No 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 Qui No Troppo Giù Troppo Giù Vabbè Mi sto perdendo Il filo Comunque Io ragazzi Chiaramente Uno dei motivi Per cui Ho Apprezzato Tanto Pokémon È anche Per il fatto Che potevo Fare La trama La campagna Principale Di tutti I giochi Pokémon Che ho adorato Di più Perché Quelli Fino a Benconero 2 Sono quelli Che ho adorato Di più In assoluto Sono immersi In un setting Massive multiplayer Online Una cosa Che da bambino A me Sarebbe piaciuta Tantissimo E che poi Magari Ho sottovalutato Perché vedevo Pokémon Come l'ennesimo Gioco Fanmade Pieno di bug O di fatti Grafici Che poi Pokémon Ne ha Ancora adesso Ma Ci sta anche Altro In un gioco Del genere Secondo me È chiaro Che uno Dei punti Di forza Di Pokémon Sia quello Di poter fare L'avventura Classica Dei giochi Classici Di Pokémon In questo Contesto Ma non deve Essere La motivazione Per cui Deve essere Una cosa Per cui Una cosa Che ti piace Di Non la motivazione Per Cioè Io veramente Ragazzi Quando leggo Certe cose Io non so Veramente Come far Rendere conto Alla gente Di quanta Sia la superficialità Con cui viene trattato Questo MMORPG Sinceramente Non so palesare Questa cosa Ho spammato Il termine palesare Su questo canale In un modo allucinante Perché non ho neanche Chissà quanti sinonimi Per quella parola Ma va bene In inglese Si potrebbe dire Make clear Ma Facciamo forse Chiarire Ecco Forse Chiarire Non lo so Perché palesare Chiarire In teoria Sono un po' Diversi Come Vabbè Comunque Ragazzi Io quello Che vi voglio Dire Se voi Vi stufate Di poche Non ci sta Smettere Ma Ma voi Dovete Smettere Perché non Io penso Proprio Se voi Cominciate A giocare Cominciate A giocare Per il gioco Non per quello Che il gioco Ha introdotto Di recente Perché Così facendo Vi godete Anche Un millesimo Di quello Che palesare Mio può offrire Come esperienza Di gioco Secondo me Cioè Poi certo Ripeto Se dopo un po' Di tempo Che state Su palesare Mio Vedete Che non ci avete Più sbatta Di mettervi A fare Il pvp Con altri Giocatori In giro Per la mappa Non ci avete Più sbatta Di logare Solo per Livellare I pokemon Come faccio Io Da quando Ho finito La lega Di Sino Che è L'ultima Che ho Fatto Ci sta Che uno Slogga Ma dovete Sloggare Perché Il gioco Non vi Da più Stimoli Non perché Non fate Più Le cose Non Non perché Non c'è Più la possibilità Di fare Certe cose Ragazzi Cioè Anche perché Ragazzi Ripeto Oltre al campo Minato Gigantesco Perché è un campo Minato Gigantesco Quello in cui Si muove Oggi Pokemon MMO Con The Pokemon Company Che fa I titoli Che fa E Nintendo Che c'ha Le politiche Che c'ha E noi Che abbiamo Un team Di sviluppo Che oltre A curare Costantemente Il gioco Fa anche Eventi Per lasciarlo Per tenerlo Vivo Dopo Undici Anni Di online Li trattiamo In questo modo Noi Ragazzi Certe volte Mi viene in mente Siamo la community Videoludica Forse Non la più Tossica Forse Non siamo A livelli Di un Legends Di un Dota 2 Di un Valorant Di un FIFA Eccetera Ma comunque Siamo una community Che in un modo O nell'altro Non si merita Lo sforzo Degli sviluppatori Questo Quella che è la mia percezione Perlomeno Quindi niente Ragazzi Io Spero che Questo Video Abbia fatto Almeno riflettere Qualcuno Non so se Non credo Che Possa Essere Di gradimento Per Troppa Gente Ma Fatemi sapere Nei commenti Al limite Come la vedete Voi Se magari Secondo voi Ci sta Che la gente Dopo aver finito La regione Lasci subito Perdere Poche MMO Fino a quando Non c'è La regione Nuova Io ragazzi Lo reputo Un atteggiamento Criminale Ma perché Sono io Che sono Rigido Non pretendo Che tutti Ragionino Come me Quindi Fatemi Comunque Sapere Nei commenti Cosa pensate Di quello Che sto Dicendo Ci vediamo Al prossimo No